Nei giorni 28, 29 e 30 gennaio al Palasport Giulio Chierici di Tolentino verrà effettuato lo screening gratuito Covid-19. Dopo il tampone antigenico rapido, se positivo, verrà effettuato il tampone molecolare. Oltre che per i cittadini di Tolentino, lo screening sarà effettuato anche ai residenti dei comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessa Palombo, Colmurano, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Serra Petrona, Treia e Loro Piceno. Per effettuare lo screening saranno a disposizione 5 differenti postazioni. Bisogna prenotarsi chiamando il numero di telefono fisso 0733 187 3473 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 19. Inoltre si può chiamare l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Tolentino al numero 0733 90 14 01 dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 19. È obbligatorio portare con sé, prima di fare lo screening, la tessera sanitaria originale, la mascherina ed il modulo compilato è scaricabile dal sito www.ats16.it o dal sito del Comune di Tolentino www.comune.tolentino.mc.it Il tempo complessivo richiesto per il test è di circa 30 minuti. Dopo l'effettuazione del tampone si resta in auto nei successivi 20 minuti. Se non si ricevono comunicazioni telefoniche il test ha dato esito negativo e si potrà successivamente controllare in piattaforma con le credenziali inviate in SMS. Solo in caso di esito positivo si viene richiamati telefonicamente nei 20 minuti successivi al test e invitati a rientrare per effettuare seduta stante anche il tampone molecolare.